Sarà il primo evento di questo nuovo anno ad Unico e per questo si è voluto come ospite un grandissimo artista che per l'occasione è in tour in Italia con la consorte. Dopo i trionfi dell'esibizione al Chiambretti Night dello scorso febbraio tornano all'Unico il maestro Little Louie Vega e a Nanè. Louie Vega è uno dei più grandi innovatori della house music. Nato e cresciuto nel Bronx nel 1965, subisce fin da piccolo le influenze musicali dei genitori, della mamma, appassionata di jazz e del padre, che invece stravedeva per i ritmi latini un sassofonista. Queste influenze rimarranno una grande esperienza musicale per lui, tanto che diverranno presto un autentico marchio di fabbrica di tutta la produzione lui-veghiana. Nel 1984 il suo primo incarico come dj è residente allo Chess Sensuale. In questi ambienti cono Beccani, Dope, Gonzales, un dj che all'epoca suonava funk e breakbeat. In quel momento lo stile di Louie Vega Garajan ben definito, il talento nel vedere oltre i confini delle etichette spesso attaccati ai generi musicali e i suoi set erano già un crossover di lati in garage e dischi pop e rock come ad esempio Pride degli U2. Louie insieme a Kenny fonde il progetto Masters at Work, il nome con cui tra la fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 e 2000 fanno uscire decine e decine di dischi e remix portando il ragazzo dai soborghi di New York alle luci della ribalta internazionale. Lou Vega ha imposto al mondo il suo stile fatto da una mescolanza di deep jets latin accompagnata da gruppi potenti e coinvolgenti. Il Grammy, la più grande soddisfazione nella carriera di Louie, arriva nella notte del 7 febbraio 2006 nella categoria Best Remix con il remix Superfly di Curtis Mayfeld. Parlando di Ananè, la musica c'era nel sangue sin da bambina a capoverde. Armata solo di una borsa piena di vestiti ed un cuore pieno di sogni si trasferisce a New York immergendosi appieno nella cultura della Big Apple. Qui incontra il DJ produttore Vega che viene colpito dal grezzo e naturale talento dell'artista. Diventa vocalist del progetto Elements of Life. Nel 2007 il Cirque du Soleil la chiamò ad eseguire il brano di apertura One Dream per la famosissima finale del Super Bowl vista da circa 140 milioni di persone nel mondo. Ha collaborato e scritto brani per personaggi come Lem Springsteen, Masters at Work e Bob Sinclair. Quello che inizialmente era un hobby è cresciuto fino al punto che la cantante è divenuta DJ resident allo chic ed esclusivo club Soul Lounge di New York.